Guarda, noi c'è una paziente che ora dobbiamo fare, che era stato un errore di valutazione, che era un sorriso, un gummy smile, era stato uno o due anni fa, un sorriso gengivale, e il laboratorio non aveva le fotografie o non aveva visto, non so come sia andato, gli avevano fatto questa protesi con il sorriso gengivale, quindi si aveva la gengiva e poi la protesi con la gengiva e i denti. Quelli sono i casi in cui la gengiva non va ricostruita, se c'è il gummy smile, il sorriso gengivale, oppure se va a filo, che i denti sono già lì nel display, non serve. Se invece c'è un sorriso, se c'è un molto sorriso gengivale, sono i casi migliori quelli in cui noi tagliamo anche parte di osso, lo livelliamo e mettiamo gli impianti più su e abbiamo corretto i denti ma anche l'estetica. Dipende da che cosa, devo guardare questo? No, devo vedere il frenulo dove è attaccato per capire dove sta, perché poi ci sono labbri che sono più lunghi, più corti, ipermobili, che fanno così e gli sale fin qua su. C'è Stefano, il nostro collega dell'aftercare, fateci un nuovo sguardo, quello alto. Quando lui ride, lui c'ha l'ipermobilità del labbro superiore, cavallo, tira su e si vede tutta la gengiva. Non rende speciale, non è che la gengiva è brutta, è bella, ognuno è diverso, è particolare, devi capire però dove devi mettere i tuoi denti in quel viso. Lui ci sta, è un pochino cavallo perché? Perché c'ha il viso longilineo, è lungo, c'è la cilindrico, come l'erch, ok, che c'ha il viso cilindrico. Dipende, ogni situazione se va simulata più o meno gengiva, quello ci aiuta alle fotografie. Perché facciamo le fotografie prima a tutti i pazienti? Perché dobbiamo cercare di capire dove dobbiamo piazzarli, sti denti. Proviamo a aprire questa, ok, altro lavoro questo fatto da noi. Ha perso molta gengiva questo, però vedete sempre che ci sono i piattelli che vanno a intercettare lì dove ci sono gli impianti. Domande? Su tutto questo, quindi denti avvitati o cementati? Dipende dove vai. Ok, no, dipende dove vai perché nel senso ci sono alcune cliniche, ok, questo chiudo perché tanto non è interessante, non è lo scopo. Io faccio un saluto a tutto il gruppo, allora vediamo se nel gruppo ci hanno seguito, ci hanno fatto la pubblicità di una R, la foto che fate prima di estrarre i denti servono anche un pochino a questo, vedi Roberto ci ha seguito, bravo, ti abbiamo risposto Roberto, sì, le fotografie ci servono anche a questo.